La città metropolitana di Torino segue con impegno il progetto di recupero dell'edificio Villa 6 di Collegno, per poter dare attuazione all'accordo di programma stipulato con la Regione Piemonte e completare così il progetto di dotare l'Istituto Superiore Curie, all'interno del Parco Collegnese, di nuove aule e spazi didattici in aggiunta a quelli di Villa 4. Il consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici Antonino Iaria, all'indomani dell'avvio del nuovo anno scolastico fa il punto sul cronoprogramma del progetto anche per venire incontro alle aspettative degli studenti, dei genitori, degli insegnanti dell'Istituto Superiore. Per questo edificio in particolare che è un nodo fondamentale dell'edificio scolastica dell'Interlande Torinese abbiamo proposto già da un anno un cofinanziamento da parte della città metropolitana per coprire l'importo dei 4 milioni e 800 mila euro che è il costo totale del recupero di questo fabbricato insieme a un cofinanziamento della regione Piemonte che ad oggi però non è ancora stato stanziato alla città metropolitana. Appena verrà stanziato questo finanziamento noi possiamo in grado di inserire nel DUP, nel bilancio appunto questa cifra per poter partire con l'appalto ai lavori. Però quest'anno noi comunque sempre su Villa 6 Collegni abbiamo continuato la progettazione e l'adeguamento del progetto originario anche per soddisfare i requisiti che la regione Piemonte ci chiede per quanto riguarda la valutazione sismica dei nuovi progetti. La Villa 6 è un edificio di grande pregio architettonico. Il progetto di ristrutturazione dei tre piani prevede 17 aule con nuovi spazi per l'attività didattica a completamento di un polo di istruzione superiore che ha interessato nel recente passato Villa 4 e la palestra.